sorpresa festa sorpresa per Ludo tanti auguri a te ragazze siete pronti o no per la challenge? vi siete vestite da Barbie? si mamma guarda bravissime vediamo Ludo ragazzi guardate che bello vestitino Ludo mi sembri proprio una Barbie che bella che sei Ludo ti riprendi sei pronta per fare la challenge? beh perché oggi devi sapere che abbiamo preparato la challenge 24 ore da Barbie ecco perché siamo tutti quanti di rosa e quindi mamma ci ha proposto questa sfida di vivere 24 ore da Barbie vediamo chi resiste di più però per iniziare la challenge dobbiamo andare in un posto vero Auri? ma ma devo chiamare che? pronto? quando viene a casa mia? come non viene? ma no sì perché tu devi sapere che oggi andiamo a Barbie Land sì perché tu devi sapere che lì ci aspetta Ken che cos'è Barbie Land? volevi dire Lego Land no è perché dove è riuscito Barbie Land perché è un posto però sì dobbiamo andare presto presto altrimenti la challenge non può iniziare dai ci aspetta Ken io prendo una borsetta sì sì scegli la borsetta mamma ci dobbiamo spiegare perché Vito ti stanno arrivando ma non ti vuoi eh buongiorno Vito dai presto andiamo ho detto che ma secondo te porto una benda sì bisogna portare le bende perché perché è un ci sarà una sorpresa dai andiamo che ha proposto di fare una sfida con le bende sì 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 andiamo sì porta porta dai vieni ragazzi ragazzi vi faccio vedere la torta in andia prima wow è incredibile no vabbè tutto bello chissà che faccia farà l'ulto no vieni vieni che ci sta aspettando Ken hai ragione ragazzi abbiamo trovato una lettera sotto al portone per Aurora e Ludovica vediamo cosa c'è scritto c'è scritto per Aurora e Ludovica un abbraccio grazie grande da Chiara Milione venuta a Verona per voi che carina questa bimba ragazze ragazzi un bacione a Chiara Milione ragazze ragazze salite su ma non vediamo nulla mamma Auri non togliere la benda Ludo attenzione a non cadere stiamo andando giuste però Ludo non vedi la togliere ci sei? andiamo mamma stiamo andando dritte? sì state andando dritte ma sei sicura? mi raccomando presto oh Ludo Ludo oh oh non riesco a prendere mai Ludo attenzione non cadete Ludo mi raccomando ti posso dire solo che siamo nel tuo posto preferito siamo quasi a Barbie siamo nel posto preferito di Ludo ancora? andiamo andiamo hai sentito ciò Barbie non sbirciate mi raccomando questo è l'uomo di Barbie non sbirciate andiamo andiamo mano Auri mettiti la benda non te la togliere brava io non vedo niente sali sali salite salite ci sei? venite venite vieni vieni dammi la mano dammi la mano vieni Ludo vieni sorpresa ciao Barbie festa sorpresa per Ludo te l'aspettavi Ludo questa bellissima festa sorpresa la godine Grazie a tutti Ludo, guarda qui Ludo, hai visto che meraviglia qui E Ludo, è perché questa è una spa ragazzi E voglio un bel... Di più, di più, di più Un applauso Ludo, guarda Ok, allora bimbi Adesso vi farò un po' di domande Voi conoscete bene Ludo? La conoscete bene? Sì Vediamo se ti conoscono Colore preferito di Ludo Giallo Indominato Qual è il suo animale preferito? Dipiti tutti Il cane Indominato, bravissima E poi l'ultima domanda Che è la più difficile Quanti anni fa oggi Ludo di cane? Sette Un anno Sette Tre anni Sette Chiacciott'anni Sette Settant'anni Sette Non l'ha sentito? Quante ne fa? Sette Che ne dite se facciamo una bella foto? Sì Mettetevi in posa Uno, due, tre Sì Combinate Ce lo spacciamo Bravissima Ok Pulitevi bene il viso Perché dobbiamo Togliere tutte Di impurità Come le vere Barbie Ma voi State facendo la beauty farm Eh Ludo Avete scelto il nome di una Barbie? Siete? No Io ho la Barbie Danza Barbie Danza Io ho Barbie 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 Bo Mi piace Tu sei la Barbie Tu sei la Barbie normale Per oggi Tu sei Barbie Tu sei Barbie Vai per i gialli Pessi con le mani Su la faccia Su il viso Ma vi state facendo belle per i maschietti? Non penso proprio che loro vogliano fare queste cose da femmine Auri vuoi fare anche tu la beauty farm? Non ci tengo grazie Io voglio fare anche tu la principessa Va bene prima lei Guarda che facciamo tutte eh Sì sì Maria facciamo tu Che colore voglio fare? No La testa è un po' di più alti L'ho lasciata in me Va bene ma Questa ancora? Sì Sei pronta? La posso lasciare un testo Va bene Ma insomma le Barbie cosa fanno quando si truccano? No Non parlano di gossip? No E' un po' sì Che mi ha fidanzato qua? Io Sofì Eccola Eccola qualcuno per forza ce l'aveva Cioè scusatemi Tu avete fidanzato io no Sì Cioè come funziona qua? Cioè no scusatemi Allora Cioè io sono innamorata Ma non è che ho fidanzato? 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 Cosa è che hai? Non è fidanzata con Mario No Ludo cos'è che hai? Scusami No Sì non sapete Ma quanto siete belli Ma io comunque mi sento come maschielli eh Con questi occhiali Dopo voglio vedere tutte con gli occhiali eh Ma io sono già Io non ce li ho gli occhiali Apri apri gli occhi Scusami Un specchietto abbiamo Allora Ok ci mettiamo i glitter sulle braccia Ah Ah vuoi i glitter sulle braccia? Appenziate che tutti sono Ecco Abbiamo barbizzato la famiglia Sono tutti Sono molto glitterosi eh Wow Che bei glitter Wow Non sei bella glitterosa Saluto Buonasera signori e signori Benvenuti alla sfilata di Barbie La prima la nostra Barbie dance Applauso Poi abbiamo lei Una grande cuoca Barbie che cucina le pulpette Barbie principessa Barbie cuoca Applauso Barbie Barbie normale Principessa applauso Poi abbiamo Un applauso per Barbie Barbie baby Vai Un applauso per Barbie cuoca Tutte cuoca qua E poi vabbè chi manca Beh ha finito? Ci sono altre Barbie? Possiamo andare? No 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 non è vero Voglio tutti Oh 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 Un applauso per Barbie Ludovic Che belle Barbie Che abbiamo qui Che belle queste Barbie Mamma mia Come siete chic Ma siete anche tutte truccate Fatemi vedere un po' Tutte i glitter Wow Ti vuole tutto? Io Ludo ma ti piace questa festa di Barbie Ludo È bella Ragazze ma questa festa com'è? Vi sta piacendo? Sì Meno male Questa è festeggiata Ludo e la Barbie Lulù è la festeggiata? Ludo ma tu ti aspettavi questa mega sorpresa? Sì Non ti aspettavi di trovare tutti i tuoi amici qui vero? Oh Sì È vero è vero Ma fa una difficoltà di mangiare E voi cosa state facendo? Mamma sono cacciate Perché? Vabbere 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 Ma che cosa brindiamo? Vabbere 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 Brindiamo alle Barbie Brindiamo a Ludovica che fa Sì Proprio su Vabbere Un po' più su Brindisi a Ludovica che fa Sì Vabbere Cin 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 È buono? Sì È buono? Com'è? Mi piace? Sì Sì Così Così Ma sì Dai è buono Sì È rilassato questo cocktail È rilassato questo cocktail È buono È buono È buono Buono? Ok Voi vi mette con calma Non vi preoccupate Tra poco noi ci dobbiamo preparare Barbie eh Avete visto che cosa ho qui? Sì Che bella che sei Volete anche voi una ciocca rosa? Sì Anche i Kenny vogliono una ciocca rosa? Sì Ma e lo smalto lo volete? Sì I Kenny vogliono lo smalto? Sì Ma i Kenny si preparano per la staffetta adesso? Dovete fare una gara di corsa Dovete essere dei veri cowboy Dobbiamo convincere anche te Ludovica come convinciamo gli altri Kenny a fare la staffetta? Loro Eh? Vai E tu che ancora manca? Io 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 Asciugatevi bene Eh Sì Ma tu non potresti fare l'estetista da grande Auri Ma cosa ti stai facendo le foto? Mamma E io Vole a portare Di questi È un po' 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 Vabbè io direi che la sorpresa è riuscita alla perfezione Che dici? Eh sì Però sono un po' altina per questa scala Tra una mamma la pulita e un po' altina Lo conoscete Benny? Sì Allora lui è Benny Il nostro masinella La nostra mascotte Ballerà La canzone di Barbie insieme a voi Ma inoltre dobbiamo imparare la coagrafia La sapete? No Allora ve lo insegno io Allora facciamo le posizioni Allora ci sarà Benny E Ludovica vicini Benny 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 Ecco Benny Ecco Benny È bello Benny È bello Benny Benni, 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 Benni! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Balla con noi, canta con noi, non difermare, non vieni finire. Balla con noi, canta con noi, muoviti oh e oh, al tempo oh e oh. Non è ancora finita qua, è la tua festa. Non posso più andare via io eh. Ludovica, Ludovica, Ludovica! Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Ludovica, tanti auguri a te. Ragazze, facciamo una bella foto. Mettetevi in posa. No, capiamo se ti siete. Mettetevi in posa. Ma secondo voi sembrano delle vere Barbie oppure no? Sì, sembrate delle bambine. Vediamo se siete delle belle Barbie. Guarda. Siamo bellissime. Ma che Barbie sei Ludo? Barbie Karate? Ludo, vuoi soffiare di nuovo? Primi primo un desiderio. Vai! Brava Ludo! Ludo, com'è questa torta? E al cioccolato e pan di Spagna. Che buona! Allora bimbi, sapete che cosa si urla quando si scartano i regali? La testa! La testa! Ah, perfetto. Allora, andiamo con il primo regalo che è da parte di... Di chi è questo regalo? Io e me. Come ti chiami? Da parte di Gaia e... Sofia. E Sofia. Allora, voglio sentire un fortissimo. Oh, che bello. Vai Ludo, apri gli altri regali. Sono di tutta la classe questi, eh. Scarta la carta. Scarta la carta. Vediamo che cosa è. Ma è bellissimo, grazie. Come si dice? Scarta la carta. Scarta la carta. Anche di Matilde, ma è bellissimo. Che bella cosa. Che outfit. Bellissimo. Poi andiamo con il prossimo regalo sempre dalla classe. Sì, sempre mio. C'è anche il biglietto. Qual disegno lo faccio? C'è anche il bigliettino, Ludo. Poi lo leggiamo. Qual disegno l'ho fatto tutto io. Vediamo, vediamo, vediamo. Oh! Bellissimo! Ludo! Ma che bello questo genetto! Ma che bello questo genetto! Ma voglio anche io, posso? No! E c'è scritto, vediamo. Auguri Ludovica, buon compleanno da Sofia e Gaia. E di tutta la classe. Da parte di Tommy e Leone. Fortissimo, bimbi. Scarta! Scarta la carta! Scarta la carta! Scarta la carta! Scarta la carta! Tommy, ma non si apre il tuo regalo. No! Ma come mai, Leone? Il nostro regalo è chiuso. Andiamo a capire, aperto. Apri, apri, apri. Vediamo, vediamo, vediamo. Bellissimo! Che outfit! Ti piace, Ludo? Mamma mia, che bello! Ti piace? Questo di chi è? Vediamo se c'è scritto il nome. Magari è dentro. È tuo, Tata? Come ti chiami? Allora, voglio un fortissimo Sky. Scarta la carta! Scarta la carta! Scarta la carta! La taglia! Wow! Mi sono vestito! Che meraviglia! Che bellissimo! C'è qualcuno che vuole rubare? Il pietro! Il pietro! Il pietro! Oh! Inizio! Scarta! 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 Scarta la carta! Vediamo che cos'è? Oh! Che bello! Ma che bello! Grazie, Pietro! Ben regalo! Buongiorno! Questo è tutto da cantarare! Bellissimo! Auguri da Ginevro e Beatrice! Chi sono Ginevro e Beatrice? Noi! Ah, le due sorelline! Prego! Il regalo per te! forte forte bimbi scarta la carta scarta la carta ma che meraviglia Ludo ma che stai dicendo? ma bellissimo ma questo posso portarlo da casa io mi faccio i trucchi che bello Ludo allora per Ludo da bianca chi è bianca? bianca ecco bianca ok fortissimo bimbi scarta la carta 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 ok lo cambieremo bellissimo però aurino non pare niente tutto uguale oggi tutto uguale questo è da parte di Giulia ecco qua per te fortissimo bimbi scarta la carta scarta la carta vediamo un guarda sono Marchini vediamo Marchini non li perde Ludo attenta a non perderli li ha persi che persi Ludo falli vedere falli vedere che non vediamo sono noi Ludo io te li rubo aiuta Lauri fammi vedere vediamoli bellissimi bellissimo questo regalo andiamo con il prossimo ne abbiamo ancora tanti questo regalo da parte di di chi è questo regalo? da parte di Elisabetta? oh ma guarda quanti regali fortissimo bimbi scarta la carta scarta la carta wow wow di glitter vediamo vediamo wow bellissimi e poi ne abbiamo un altro no ma bello no bellissimo e poi questa vediamo vediamo il più grande apriamolo con tutta la forza di aiuto apri apri vediamo cos'è oh e per fare e per fare che cos'è? vediamo vediamo ce la fa Ludo? Auri aiuta Ludi aiutiamo aiutiamo Lodovica c'è un problema piano piano arrivano i rinforzi Auri vai Ludo vediamo 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 il troppo e la rosa bellissimo grazie Elisabetta wow grazie Elisabetta Ellie l'hai fatta tu di chi è questo regalino di chi è questo tanto di Dylan questo è il tuo regalino davvero anche il regalino è fatto allora apri il bigliettino auguri di cuore stupenda principessina degli unicorni Sì la braccia Rion grazie apri apri vediamo che cos'è uno che lo fa di vedere vediamo vediamo gira fammi vedere è bellissimo ma che meraviglia è bellissima Ludo perché non te la metti Ludo matilde quindi voglio un fortissimo scartala perché è l'ultimo scartala 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 tutti i tuoi amici sì allora ok distribuisci le pensierre pergallo grazie giusto bella che questo è un po' di non lo dice è un po' di beh questa la manchi le cuffie prendete la parma mi dà 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 mamma 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 Vai Ludo per Leonardo Vediamo Amore che bello Ma cosa c'è in questo sacchettino Ludo? Delle caramelle Voglio aprire le cuffie Vediamo le cuffie Vediamo vediamo come sono queste cuffiette E qua ci può anche togliere la cuffiettina Che bello Vediamo come sia cuffiette questo cuffiette Che bello Vediamo Ludo Ma che belle queste cuffie Ma cosa state facendo? Facciamo una foto ragazzi? La Barbie con Ken? Chi è che sta vincendo qui? Siamo pari Siete pari? Sì Sicuri? Sì Va bene va bene lancia lancia Chi è che ha fatto gol? No Dylan Dylan hai fatto tu gol Ma questo è un autogol clamoroso Vediamo vediamo Fuori gioco Vai 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 Tira 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 Dov'è? Dov'è? Tira lancia lancia E va bene ragazzi Il video finisce qui Noi vi salutiamo Speriamo che questo video vi sia piaciuto La sorpresa è riuscita benissimo Ringraziamo benvenuto Per questa bellissima festa Lulù vai E va bene ragazzi Questa è pazza Iscrivetevi Attivate la campanellina E lasciate i tantissimi pollicioni Iscrivetevi E io me ne vado a mangiare Questa è pazza Noi siamo gli unicorni Grande esercito del cuore Se stiamo insieme tutto poi diventerà speciale Noi siamo gli unicorni Beh vieni a cantare con noi Oh 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 Non ci arrendiamo mai